Lentini, la furia omicidia di Montalto che accoltellò Raso, condannato a 14 anni di reclusione. Antonio Montalto, 23 anni, di Lentini, accusato dall'omicidio di Roberto Raso, 38 anni, è stato condannato dal tribunale Aretuseo a 14 anni di reclusione. Il gruppo non ha accolto la richiesta degli abogati Giambattista Rizza e Junio Celesti, difensori di Montalto, che avevano chiesto la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale. Antonio Montalto, giudicato con rito abbreviato, era accusato di avere accoltellato Raso al termine di una lite avvenuta nel luglio 2022 a Lentini. Stessa pena era stata chiesta dal pubblico ministero Marco Dragonetti. Nella ricostruzione l'indagato avrebbe reagito alle insistenti richieste di denaro che la vittima gli avrebbe fatto. Una parola fuori posto, la lite e il tragico epilogo. L'omicidio si è consumato in questi pochi frangenti. A farne le spese Roberto Raso, 38 anni, accoltellato in strada a Lentini. L'episodio avvenne in via Silvio Pellico intorno a mezzanotte. Per i carabinieri della stazione di Lentini, che indagarono con il coordinamento della procura Aretuseo, Raso e l'indagato si sarebbero incontrati il 10 luglio 2022 per strada. Il primo avrebbe chiesto una piccola somma in denaro. Al rifiuto del giovane, tra i due scoppiò una litica e però sembrava essersi esaurita. Montalto però salì a casa per prendere un coltello con il quale si recò in via Silvio Pellico, sotto l'abitazione di Raso, dove si consumò l'omicidio.